Bene, questa sera continuiamo con i nostri salmi, andiamo velocemente a rivedere chi sono gli autori dei salmi, chiaramente il re Davide che ne ha scritti 75 e poi tutti gli altri salmisti. Ancora una volta vediamo che il libro dei salmi è diviso in cinque libri che troviamo separati anche nelle nostre Bibbie e rivediamo un po' il genere dei salmi. Il genere dei salmi, Lamenti e Ine di Lode li abbiamo già trattati. Poi ci sono i salmi di ringraziamento, i salmi della regalità, i salmi della fiducia, salmi sapienziali e salmi messianici. Voglio subito dirvi che questa distinzione non è per tutto uguale, è qualcosa di libero. Io ne considero sette di tipi di salmi, qualcuno ne considera sei, comunque in grandi linee, questi sono i salmi, il genere dei salmi. Questa sera ci soffermeremo sui salmi di ringraziamento e sui salmi della regalità. Allora, cosa sono i salmi di ringraziamento? Sono le espressioni gioiose di ringraziamento e di gratitudine per le risposte del Signore al salmista, quindi sono dei salmi dove il salmista a livello personale ringrazia Dio per quello che Dio ha fatto per lui o un gruppo di persone. Adesso vediamo qualche espressione di ringraziamento dei salmi dove noteremo appunto questa caratteristica che c'è un ringraziamento del salmista o un ringraziamento al plurale di più credenti o un invito a ringraziamento a più credenti. Vediamo il primo salmo, il salmo 40, un salmo di Davide bellissimo, consideriamo un salmo di ringraziamento perché inizia con queste parole. Io ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me ed ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi e gli ha messo nella mia bocca un nuovo canto a lode del nostro Dio. Vedete come il salmo 40 inizia con il ringraziamento al singolare, cioè Davide ringrazia il Signore per le sue liberazioni, il Signore che ha ascoltato il suo grido, lo ha tratto fuori dal pantano fangoso. C'è il famoso cantico antico, forse qualcuno lo conoscerà, io ero nel fango, lontano dal Signore e c'è, ispirato da questo salmo 40. E' tutto al singolare, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, ha messo nella mia bocca un nuovo canto. Quindi c'è un ringraziamento del salmista, di Davide, al singolare. Ma poi se vediamo già dal seconda parte del verso 3, questo ringraziamento diventa invece collettivo. Molti vedranno questo e temeranno. Confideranno nel Signore, beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi. O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi, i tuoi disegni in nostro favore. Vedete? Davide a questo punto parla al plurale, cioè porta questo ringraziamento nella bocca di più credenti, di più persone. Signore, tu hai moltiplicato i tuoi prodigi, i tuoi disegni in nostro favore, nessuno è simile a te. Quindi vediamo in questo Salmo 40, adesso è una parte del Salmo 40 che è bellissimo, appunto che proprio c'è questo ringraziamento fin dall'inizio, questa lode di Davide a Elidio che l'ha tirato fuori dal pantano fangocio. Salmo 40. Vediamo un altro Salmo di ringraziamento, sempre di Davide. Il Salmo 34, anche questo è famoso, ci sono canti ispirati da questo Salmo 34 e c'è anche una sovrascritta interessante perché Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimele che è scacciato da lui se ne andò. Questo è un episodio che troviamo nei libri di Samuele quando appunto Davide è in fuga da Saulo, si va a rifugiare per errore dal re dei Filistei e lì lo riconoscono e qualcuno chiaramente vorrebbe farlo fuori, ma Davide si finge pazzo e allora questo re Abimelec dice io di pazzo dice no a sufficienza cacciatelo via e Davide si salva la vita. Quando poi esce da quella situazione Davide scrive questo Salmo. È un Salmo di ringraziamento per questa grande liberazione. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca, io mi glorierò nel Signore, gli umi illudranno e si relegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme ed ecco qui il ringraziamento per la liberazione. Io ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Vedete che questo Salmo di ringraziamento passa dal singolare al plurale. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro occhi, nei loro volti non c'è delusione. Ritorna al singolare. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. E poi al versetto 8 provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confide in Lui. Vedete che questo ringraziamento passa dalla testimonianza personale di Davide, che viene liberato appunto dalla mano del re dei Filistei, a un ringraziamento che Davide allarga a tutti quelli che lo temono. Un Salmo di ringraziamento. Salmo 34. Vediamo l'ultimo dei Salmi di ringraziamento, molto famoso anche questo. Quante volte ce lo ricordiamo quando ci incontriamo, quando ci incontriamo per pregare, quando magari c'è quella stanchezza serale dove è difficile la concentrazione, la lode, la preghiera, ed allora questo Salmo ha un incoraggiamento a ringraziare il Signore. Benedici anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E poi qui c'è il ringraziamento per tutto quello che Dio fa a livello personale. Perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita della fossa, ti corona di bontà e compassioni, sazia di bene la tua esistenza, ti fa ringiovanire come l'Aquila. Il Signore agisce con giustizia, difende tutti gli oppressi, benedici anima mia il Signore, e non dimenticare. Anche questo lo mettiamo, tre salmi di ringraziamento. Almeno ce lo metto io, poi perché, come ho detto, sono delle distinzioni libere. A me sembra un salmo di ringraziamento, il salmo 103. Adesso passiamo all'altra categoria che analizziamo questa sera insieme ai salmi di ringraziamento, che sono i salmi della regalità, cosiddetti perché ci parlano dei re. Troviamo diversi salmi che parlano del re, sia da un punto di vista del re Davide, il re Salomone, il re regnante in Israele, ma soprattutto dal punto di vista della regalità dell'Eterno di Dio. Sono quelli che affermano la lealtà a Dio quale re, il suo dominio dell'universo, il re dell'universo. E quelli celebranti, invece, la dinastia davidica, la benedizione di Dio sul re e quelli che incoraggiano il popolo a rinnovare la sua fedeltà al patto mosaico. Quindi si parla di re in questi salmi. Facciamo degli esempi. Facciamo degli esempi. Ma prima, ecco, dimenticavo di accennare al fatto che in Israele c'era la teocrazia, almeno Israele, è nato come una teocrazia, cioè non tutti i popoli dell'antichità avevano i loro monarchi, i loro re, che poi a quei tempi spesso e volentieri si autonominavano anche divini, se ricordate dal faraone in poi quanti ce ne sono stati, ma Israele invece è il popolo del Signore. E il re di Israele in realtà era il Signore. Non aveva un re. Mosè non era il re di Israele. Mosè era il profeta che parlava con l'Eterno, con il re. Quindi il re è il Signore, Mosè è la sua voce, il suo profeta. E questa era la teocrazia, cioè il governo di Dio in Israele, che non è quello di certi governi che conosciamo del mondo, che si dicono teocratici, ma governano le casse sacerdotali, vero? No, la teocrazia è vera e propria. Mosè non era un re, era la voce del Signore. Ma il Signore già sapeva come sarebbe andato a finire, tanto è vero che nella legge in Deuteronomio prevede che Israele un giorno avrebbe chiesto un re, come gli altri popoli. E dice così il Signore a Mosè. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà e ne avrai preso, posso esserlo abbiderai? Forse dirai, voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano. Allora dovrei mettere su di te come il re colui che è il Signore e il tuo Dio avrà scelto. Quindi c'era sempre anche in questa monarchia che si doveva poi realizzare in Israele, ci doveva essere l'ultima parola dove aspettare al Signore, che tramite il profeta doveva scegliere il re. Era sempre una teocrazia indiretta, quella di prevista dalla legge. Ricordate Davide, anche Saul, e vengono unti da Samuele, il profeta. È il profeta che gli unge perché il Signore gli dice di andare a ungere Saul. Il Signore gli dice di andare a ungere Davide. Poi tutto questo finirà, finirà con Salomone, possiamo dire, perché tutti gli altri re diventano veramente re come gli altri e peggio degli altri. Tanto è vero, questa cosa fece addolorare il profeta Samuele. Se leggiamo prima Samuele 7,7, quando il popolo chiede il re, allora il Signore disse a Samuele, dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma a me, affinché io non regni su di loro. Vedete, Israele chiede un re e non vuole più che il re sia il Signore. Agiscono con te come hanno sempre agito dal primo giorno che gli feci salire dall'Egitto fino a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Dà ascolto alla loro voce, abbi cura però di avvertirli solennemente e di far loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Abbiamo fatto la storia dei re di Israele e di Giuda e abbiamo visto che tragedia è stata per quel popolo. Salmo 21, un salmo della regalità, perché qui abbiamo il re Davide e il re che si rallegra nel Signore, il re che ha scelto Dio, come è scritto nella legge, il re unto dal profeta e quindi un re santo che salmeggia, Signore il re si rallegra nella tua forza, quanto esulta per la tua salvezza. Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai risprinto la richiesta delle sue labbra, poiché tu sei venuto incontro, gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti, gli hai posto in capo una corona d'oro finissimo. Vedete come Davide riconosce che lui è re soltanto perché Dio l'ha voluto tale, vero? Egli ti aveva chiesto vita, tu gliene hai data lunghi giorni in eterno, grande la sua gloria attraverso la tua salvezza. Tu lo rivesti di maestà e magnificenza, poiché lo rigolmi delle tue benedizioni per sempre, lo riempi di gioia in tua presenza. Perciò il re confida nel Signore, per la benevolenza dell'Altissimo non sarà mai smosso. In questo Salmo vediamo che genere di re era Davide. Davide è il re che ha scelto il Signore, è il re che dà tutta la gloria a Dio, è il re che riconosce che tutto viene dal Signore, eh? Questo era il re secondo la legge, ma poi sappiamo che non continuò così. Però questo Salmo 21 è un Salmo della regalità perché parla della dinastia davidica, cioè di Davide e del re che il Signore ha scelto. Un altro Salmo della regalità è il Salmo 24. E qui invece c'è la regalità di Dio, eh? Dove Dio viene celebrato come il re e la maggior parte dei Salmi celebrano il Signore come il re. Al Signore appartiene la terra, tutto quello che inessa, il mondo e i suoi abitanti. Egli l'ha affondata sui mari, l'ha stabilita sui fiumi. Poi al versetto 7, O porte, alzate i vostri frontoni, voi porte eterne, alzatevi, il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? Il Signore degli eserciti è il re di gloria. Vedete come è chiaro questo Salmo? È il re di gloria, è il Signore. È il salmista da gloria al re. È il re che poi deve entrare nella città, è il re che tornerà, è il re che poi vedremo nelle profezie messianiche, è Cristo Gesù stesso che deve regnare. Quindi il Salmo 24 parla del re, dei re, il Signore, a quale appartiene la terra. E vediamo poi per ultimo il Salmo 97. Il Salmo 97 inizia proprio con il Signore regna. Esulti la terra, giuiscano le numerose isole, nuvole oscurità lo circondano, giustizia e guidà sono le basi del suo tro. Un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutti attorno, i suoi lampi illuminano il mondo, la terra lo vede e trema, i monti si sciolgono come c'era davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunciano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, dice questo Salmo. Anche altri Salmi iniziano così. Quindi il Salmo della regalità del Signore, il Dio. Quindi il Salmo che dà gloria al re, al re dell'universo. Nell'Antico Testamento spesso troviamo espressioni che parlano di Dio come il re. Israele, abbiamo detto, in Israele il re non c'era, il re era il Signore e l'arca, l'arca del patto era considerata il trono, il trono del Signore, pensate, l'Inetabernac. Ma anche nei profeti troviamo espressioni della regalità di Dio come per esempio in Isaia, Isaia 6, quando Isaia ha la visione del Signore lo vede come un re nel Tempio, vero? Isaia scrive nell'anno della morte del re Uzzia, muore un re terreno, ma Isaia vede il re dei re, vede il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, nel Tempio, vero? Quindi la visione di Isaia è una visione della regalità di Dio. È vero che è morto il re della terrestre Uzzia, ma Israele nel Tempio aveva il re vero, il re dei re, che aveva un trono molto elevato. Questa è un'espressione del profeta Isaia. Faccio una piccolissima parentesi prima di terminare, perché c'è una forma di spiritualismo del passato, ma è molto seguita anche nel presente, che si definisce il Deismo. Cos'è il Deismo? Essenzialmente è la visione che Dio esiste, c'è tanta gente che ragiona così, Dio esiste, ma non è direttamente coinvolto nel mondo. Il Deismo rappresenta Dio come il grande orologiaio, il quale avrebbe creato l'orologio, cioè l'universo, la Terra, i pianeti, la perfezione, l'orologio, l'avrebbe caricato e infine l'avrebbe lasciato andare avanti da su. Un Deista crede che Dio esista ed abbia creato il mondo, ma non che interferisca con la sua creazione. I Deisti negano la Trinità, l'ispirazione della Bibbia, la divinità di Cristo, i miracoli e ogni atto sovranaturale di ritenzione e salvezza. Il Deismo rappresenta Dio come indifferente ed estraneo. Ecco, c'è questo concetto di Dio orologiaio che carica l'orologio e poi se ne va e tutto quello che succede sulla Terra non lo riguarda, che è nato nell'illuminismo ed è stata la religione della rivoluzione francese e di uomini famosissimi, filosofi e scienziati. Adesso faccio vedere tre immagini, provate a indovinarli come se fosse un gioco. Questo è il primo, questo è francese, questo è il secondo, questo è inglese e questo è il terzo e questo è tedesco. Sono tre filosofi, scienziati anche, Deisti e il primo è il famoso Voltaire, francese, che non è che non credeva in Dio, era un Deista, abbiamo letto, credeva che Dio era il loro orologiaio. Il secondo è invece lo scienziato Newton, famoso scienziato Newton inglese e il terzo è Emmanuel Kant, il filosofo, un famosissimo filosofo tedesco, quindi hanno a che fare con l'illuminismo e questo modo di ragionare con loro è entrato su tutta la faccia della Terra. Ma il Salmo 97 che dice che Dio ha caricato l'orologia e se n'è andato? No, il Salmo 97 non ci parla dell'orologiaio, ci parla il Signore regna, cioè il Signore regna, non se n'è andato, il Signore è presente, egli è il re, egli governa, non ha lasciato perdere tutto e si è andato in vacanza il Signore. Quindi questo deismo cozza con la parola di Dio è la religione dei massoni, il deismo, la massoneria crede che Dio sia un loro ogiaio. Noi siamo cristiani, crediamo alla Bibbia, crediamo che il Signore regna. Ecco, quindi quando qualcuno gli fa un discorso d'ateista, tu ti guardi che non è così perché il Signore regna, il Signore governa esattamente l'universo e la vita degli uomini. e vediamo, finiamo con alcune espressioni del Nuovo Testamento sul re, sulla regalità di Dio. Quando Gesù entra, ricordate, entra a Gerusalemme sul dorso dell'asino, tutta la folla grida, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. E questa è una cosa che fece arrabbiare moltissimo i farisei, ma tanto li fece arrabbiare, perché la folla gridava, è entrato il re di Israele, Gesù. Lo volevano fare i re, l'abbiamo visto anche altre volte nei Vangeli, ma chiaramente Gesù ha detto che il mio regno non è di questo mondo. Poi lo spiega davanti a Pilato e anche davanti a Pilato Gesù afferma di essere re. Quando Pilato gli dice, ma tu sei un re? E Gesù rispose, tu lo dici, io sono re, io sono nato per questo, per questo sono voluto al mondo, per testimoniare della verità, chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Io sono re, lo ha detto Gesù a Pilato, non l'ha nascosto il Signore, anche se il mio regno non è di questo mondo, dice Gesù, vero? Quindi la regalità del Signore è chiara anche nel Nuovo Testamento, tant'è vero che poi Pilato, sopra la croce di Gesù, non sappiamo se per disprezzo o per fare un dispetto ai farisei che non volevano, ci ha fatto scrivere in latino, in greco e in ebraico Gesù Nazareno, re dei Giudei. E questo era il titolo che è sopra la croce del Signore, secondo il Vangelo di Giovanni. Ma c'è questo titolo il Signore l'ha proclamato, egli stesso, davanti a Pilato. E l'ultimo versetto, ecco, Pilato fece questa inscrizione, Gesù in Nazareno, il re dei Giudei, sopra la croce. Ma noi andiamo all'ultimo versetto di questa sera, della regalità, ed è quello che ci riguarda tutti da vicino, perché un giorno il re si manifesterà. Di nuovo, ma veramente come il re dei re. L'epocalisse viene citato, combatteranno contro l'agnello, l'agnello li vincerà. L'agnello chi è? È il Signore Gesù, perché egli è il Signore dei Signori e il re dei re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Quindi ringraziamo il Signore che egli è il re e non l'ha nascosto neanche a Pilato. Ed un giorno ogni occhio lo vedrà e ogni lingua confesserà che lui è il Signore è il re dei re. Grazie a tutti. Grazie a tutti.